A kiss for you Anticipazioni L'Isola dei famosi 2018, ecco svelati i primi concorrenti Nam Fungadeli L'Isola dei famosi 2018 anticipazioni concorrenti, i primi nomi confermati. Il cast del cancelletto Isola dei famosi 2018 comincia a prendere forma. . Giorno dopo giorno arrivano delle nuove anticipazioni su quelli che saranno i concorrenti di questa tredicesima edizione del reality show che rivedremo su canale 5, video, a partire da lunedì 22 gennaio in prime time. . Al timone della trasmissione è stata confermata Alessia Marcuzzi, che anche questanno potrà contare sulla presenza in studio di diversi opinionisti che cambiano di puntata in puntata. Tutte le ultime anticipazioni sull'Isola dei famosi 2018, ecco chi è l'inviato. . Un'altra delle novità riguardante il cast dell'Isola si chiama Stefano De Martino, il ballerino di Amici, infatti, sarà uno dei volti della trasmissione di Canale 5 e lo vedremo nelle vesti di inviato ufficiale del reality show. . Una nuova esperienza che sicuramente farà brillare De Martino, uno dei volti giovani più apprezzati dal pubblico di Canale 5. . Ma chi saranno i veri protagonisti della nuova Isola dei famosi 2018, video? In queste ore sono stati anticipati i primi nomi ufficiali dei concorrenti che vedremo mettersi in gioco quest'anno sulle spiagge in Honduras. . Tra questi vi segnaliamo la presenza di Francesco Monte, l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, il quale dopo essere stato lasciato in diretta tv al Grande Fratello Vip, ha accettato la proposta Mediaset di mettersi in gioco e di vivere così questa nuova esperienza che accrescerà ancora di più la sua popolarità. . . I nuovi concorrenti dell'Isola dei famosi 2018, ecco chi ci sarà nel cast. . . Tra i nomi ufficiali che sono stati svelati in queste ultime ore vi segnaliamo anche quello di Nadia Rinaldi, recuce dal cambio estetico di queste ultime settimane così come è stato testimoniato dalle telecamere della trasmissione Domenica Live di Barbara D'Urso che l'ha seguita nella sala operatoria per seguire le fasi dell'intervento chirurgico. . 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